Io ringrazio te per questo bellissimo evento e poi soprattutto la premiata veramente straordinaria. Io ho conosciuto i genitori di Noemi, non c'è solo Noemi ovviamente, però veramente straordinario che sono scelta, straordinario che sono scelta, straordinario che sono lento, ma sono belle perché è uno dei paesi più belli del mondo, è invece un grande simbolo che tu stai facendo apprezzare a tutti, stai facendo entrare nel cuore, vedo la tua passione in questa cosa, vedo veramente un cuore profondo nel mare, il mare che poi scorre, scorre, si unisce, scorre le vene di tutti i cittadini della penisola soprattutto, sono tanti ancora, in questo momento ci stanno vedendo grazie a tutti, ci sta Michele, gli angeli, ci stanno gli amici, ci stanno i giovani, ci stanno tutti coloro i quali danno, comunicano e fanno unire e fanno unire la penisola con il mondo. E io vedo soprattutto i marittimi come il mare, quindi penso che questo è un evento di carattere internazionale, complimenti. Grazie. 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 Possiamo noi vedere la festa della Madonna del Verbece a livello nazionale e internazionale, perché a questo dobbiamo mirare, ad avere una festività per il mare, d'accordo con il mare. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.